Un incidente domestico, un suicidio, solo l'autopsia chiarirà come morta Emanuela Barretto, 43 anni, trovata senza vita nella sua casa di via della Cappelletta, siamo ad Alessandria. La donna, riversa vicino alla porta del bagno, tra vetri e sangue, aveva una grossa scheggia infilata in una gamba che le ha reciso l'arteria femorale e nell'alloggio c'era la vetrata di una finestra in frantumi. Avremmo dovuto festeggiare lunedì sera il suo compleanno, queste le parole del fratello che vive al piano di sotto della casa nel quartiere Orti. L'uomo avrebbe chiamato i carabinieri dopo essere stato avvertito dall'ex fidanzato della donna, allarmato perché lei non rispondeva al telefono. Emanuela Barretto era laureata in psicologia con il massimo dei voti ma seguiva delle terapie e non risultava che esercitasse la professione se non saltuariamente. Molto insolite anche le sue abitudini di vita, di giorno infatti dormiva e usciva la sera per incasare alle prime ore del mattino. Non la conoscevamo, raccontano i vicini, non ci siamo resi conto che potesse essere successo qualcosa di così grave.